Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del mondo di Beastard Allora, l'ultima volta avevo fatto un hyper fail qui sul vulcano con la lava E in pratica, leggendo poi dai vostri commenti, ho capito in pratica che dovevo mettere due dispenser Oppure anche un dispenser perché così non funzionano nella maniera più assoluta Mettendo la pietra rossa in questa maniera non funziona nessuno dei due E invece, che cavolo è successo? Sono, hanno funzionato entrambi ragazzi, guardate qua la lava che spettacolo che è È vero perché c'era la leva tirata, porca vacca, volevo farvelo vedere dopo Vabbè Comunque ragazzi, il vulcano ha appena eruttato E la lava sta procedendo nel migliore dei modi Guardate che figata, anzi, io vorrei così quasi andare dall'altra parte Così vi faccio vedere tutto quanto bene Perché da questo in cima non si capisce assolutamente nulla Quindi andiamo giù dall'altra parte Ed eccoci qui, allora Guardate che roba Che spettacolo Innanzitutto vi voglio subito rispondere Perché vedete in pratica tutti i blocchi bianchi Sembra sabbia Ma è perché ho messo una texture nuova ragazzi E quindi tutto, come si chiama, tutto il pietrisco lo vedo in questa maniera qui Che non è niente male ragazzi Allora, questa qui è tutta la colata di lava Spettacolo, veramente fighissima Questa cosa qui ragazzi possiamo utilizzarla veramente Nelle maniere più assurde Ovvero possiamo mettere dispenser Posizionati, che ne so io Anche su in cima di qua E poi con tutta la pietra rossa magari fino qua E possiamo attivarli E da lì anche viene giù la colata di lava Comunque Non è niente niente male questa cosa qui E adesso Tuffo olimpionico Ole Quindi abbiamo visto che il vulcano adesso funziona Grazie chiaramente ai vostri commenti ragazzi E appunto bisogna un attimo aiutarsi Perché io in Minecraft non sono assolutamente un professional gamer Però ragazzi assieme diventiamo dei professional gamer Guardate che anche qui l'erba Cioè questa texture qui è veramente fatta molto molto bene Cioè a me piace ragazzi Iscrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate Non è assolutamente niente niente male Allora oggi Dobbiamo iniziare a fare l'aereo Quindi Qui mi pare che ci fossero Esatto Tutti i blocchi Oh anche qua ci sono i blocchi Allora mettiamo giù questo Questo Tutte le cose che non ci servono assolutamente Le mettiamo in questa cesta qui Allora vabbè L'acqua magari mi può servire Questo per ora no E prendiamo allora Terra Sì è un po' un casino ragazzi Perché sia la terra che il pietrisco Sono uguali Si differenziano veramente pochissimo Mattoni di pietra Quindi è veramente un casino Allora il pietrisco E i mattoni di pietra Allora prendiamo intanto i mattoni di pietra Visto che ce li ho già qui Prendiamo anche gli scalini E poi prendiamo anche tutto questo bellissimo pietrisco Qui avevo anche un po' di carbone Perfetto Altro carbone non ce l'ho Non mi ricordo più ragazzi L'altro carbone Aveva tonnellate di carbone Magari sono Eh qua non c'è Magari era Nella Nel nostro castello Dove cavolo è che almeno mettiamo a cucinare un po' di pietra Forse qui c'era carbone Se Altro vetro Ok Pietrisco Va benissimo così ragazzi Dovrebbe No non c'è neanche una cesta qua Una bella cesta non c'è Allora ritorniamo su E piazziamo qua Il vetro e il carbone Che per ora non mi servono Potevo anche tenermi ma Fa lo stesso Allora come avete visto dalla mia serie Che è uscita appunto in questi giorni Adesso non so di preciso quando la vedrete Ma Ho iniziato ragazzi a registrare veramente tantissime serie E come ben sapete io ho una programmazione di video E quindi Nelle successive settimane ragazzi ne vedrete veramente delle belle Sto registrando veramente una miriade di nuovissime serie Qui cavolo sta anche Diventando buio Non vogliono farci costruire l'aereo Ma che cavolo è Vai fatemi dormire e torno da voi Ed eccoci qui Allora è giorno E vi volevo far vedere le lampade fatte a banana E qui le lampade fatte a banana Sott'acqua Perfetto Allora La nostra Il nostro bellissimo aereo Io lo volevo fare in volo Però ragazzi in volo è veramente difficile da fare Io vorrei farlo magari Allora intanto devo mangiare Se no qui non costruiamo assolutamente nulla Allora mangiamo un'altra bella patatina Ah è vero non le ho cotte Porca vacca Sono patate normali prese dal raccolto Per quello dicevo ma che cavolo non mi sale più la vita Dobbiamo cucinare anche le patate Per fortuna che ho sempre i miei polli Allora L'aereo abbattuto Secondo me lo possiamo fare anche qua ragazzi Allora iniziamo con la punta Si per me si può fare anche qui Tanto non c'è nessunissimo problema Qui perché cavolo di motivo ci sono sti buchi Io non capisco E' tutta bucata sta roba Allora vai iniziamolo qua Allora il muso dell'aereo Potrebbe essere in questa maniera Allora lo facciamo largo Così Che poi va spiovente così Ok Ah il vetro mi manca Per che cavolo ha messo giù il vetro Fatemelo un attimo andare a riprendere Ed eccomi qui con il bellissimo vetro Perfetto Che magari lo possiamo mettere Qua ragazzi Giusto per far vedere che questa qui E' l'inizio appunto dell'aereo Poi devorò prendere un po' di spunti Perché così non mi convince minimamente Sto facendo una bozza eh chiaramente Allora Mi serve il piccone Ah ce l'ho già qua Perfetto Questo lo tiriamo via Qua mettiamo l'altro così Dovrei prendere spunto ragazzi Dalla serie che stavo Facendo Anzi che state vedendo Perché io l'ho già bella che finita Vabbè ora ragazzi Utilizziamo che Sennò divento matto Non capisco assolutamente nulla Magari è meglio Se tiro via questa texture Allora l'aereo deve essere Un blocco così 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 qua poi ci mettiamo No ma che cavolo Allora Allora questo Poi dobbiamo Dobbiamo metterci via anche questo E questo qui Perfetto Poi qui avevo preso gli assi Questi qui Facciamo così Poi da questo Ci facciamo una crafting table Qua ragazzi Molto molto vicina Perché sennò è un casino E la mettiamo qua Perfetto E qui facciamo Un paio di poltrone Eccoci qua Perfetto 8 bastano per ora Vai così E con le poltroncine Vabbè qui poi ci manca Facciamo così Facciamo un attimo così In velocità Così capiamo Mi dite anche poi voi nei commenti Cosa dovrei migliorare Allora Questa del pilota La mettiamo qua dritta Poi ne mettiamo Subito una qua Una qua Sì dai ci possono stare così Poi ne mettiamo una qua Una qua Un po' strette ragazzi Anche se sarebbe figo Fare la prima classe Ah le ho già finite Ok e questa è la hostess Abbiamo un paio di poltroncine Quaggiù c'è la hostess E abbiamo tutto quanto Allora Fatemi un attimo Finire così L'aereo Il dietro dell'aereo Come cavolo Facciamo Sarebbe bello Eh Non è semplice ragazzi Eh Non è semplice Perché poi qua sopra Lo dobbiamo alzare Di così Così Perfetto Ops Perché poi qua Ci mettiamo No forse l'ha alzato un po' troppo No 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 È perfetto così raga Qui ci mettiamo Senza farlo neanche apposta Senza farlo neanche apposta Vai così Allora poi qua Mettiamo questa cosa qua Sembra più che altro Un cinema per ora E non un aereo Comunque sono dettagli Questi qua Magari potevo fare anche L'aereo molto Più grande Vedendo la nave Come l'ho fatta L'aereo dovrebbe Essere Gigantesco Allora Poi qui Dobbiamo chiudere Ho finito Perfetto E l'aereo qui ragazzi Lo stiamo costruendo assieme Spero che vi piaccia Quest'idea qui Così sembra di più Una casa Allora Questi blocchi in alto Non ci vanno Nella maniera Più assoluta Anzi no Facciamo così ragazzi Ci mettiamo qua i blocchi E poi togliamo questi Così sembra Forse un po' meglio E mettiamo i blocchi Così Cavolo Sì Così sembra una casa Poi qua chiaramente Ci dobbiamo mettere le ali Che le ali Saranno la cosa Più difficile da fare Boh Così ragazzi Un'ala Vabbè poi Lì c'è la crafting table Boh Così E poi qua Si va giù dritti così Fatemi vedere Se abbiamo creato un'ala O abbiamo creato una schifezza Abbiamo creato una schifezza Ragazzi Ma che cavolo è questo aereo Non volerà mai E poi mai Ma che brutto L'ho fatto Qua ci vorrebbero Delle cose Tipo fatte così Qua dobbiamo fare così E' che io ragazzi Non so dare tipo Forme tonde in minecraft Dovrei fare tipo Tutto a gradoni Tutto Fatto a scaglie Ma devo ancora un po' Imparare Questa cosa qui Nelle costruzioni Qua comunque abbiamo visto Che abbiamo preso Uno spazio Abbastanza ristretto Perché qua L'ala Fa abbastanza schifo Fatemola un attimo Un attimo riempire Magari Non so Cambia Ci viene un'idea migliore Fatemi vedere qua Ok Questa qui dovrebbe essere un'ala Questa qui è una schifezza Vabbè Più che altro Una casa volante Sembra Dumbo L'aereo che non volerà mai Poi facciamo così E dovrei fare anche questo Da quest'altra parte Così Se io volevo fare una cosa Di questo genere La cosa bella Diciamo ragazzi Di questa texture È che Anche se si utilizzano Materiali un po' diversi È tutto bianco Quindi da distante Non penso Che faccia molta differenza Vediamo così Mi sa che poi Questa bozza qui Di Di aereo Lo lasceremo qui Come ricordo E ne andrò a costruire un altro Perché questo qui Non mi piace Assolutamente Scrivetemi nei commenti Come dovrebbe essere Un bellissimo aereo Eccoci qua Perfetto O magari possiamo adibirlo Anche a cinema Eh ragazzi Un cinema dinamico 3D Sotto forma di aereo E si può fare anche questo Il muso è orribile Non sarebbe male come idea Possiamo intitolarlo Il cinema Più che altro Al posto che l'aereo Comunque Io direi che il video Si può quasi Concludere qua ragazzi Perché Le mie doti qui Non di disegnatore Ma di creatore Fanno Abbastanza Schifo Lo lasciano molto A desiderare Che orribile È orribile Quindi ragazzi Io vi lascio Scrivetemi nei commenti Come dovrebbe essere Esattamente un aereo Io andrò A vedermi Anche io Qualcosa Giusto In pratica Come vi sembra Questa costruzione Anche se Immagino già I vostri commenti Fa abbastanza schifo Io adesso ragazzi La faccio esplodere Con le TNT Non è possibile È orribile Quindi condividete Questo video Ottantesimo episodio A questo ragazzi Quindi è veramente Assurdo Passate nella pagina Facebook Iscrivetevi al canale Qua da Bistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao